Quando fai più di lui, si vuole la cosa del lui. Porca bella! Ma quando eravate con il progetto lui... Sì, la pari ce la notte. La pari è decisamente la pari. Lui che diceva LukaKuri, Apre Barela a Lukaku. Bello, bello, bien, bare, bien! Bello! Bello, bello! Ma non è stato! Un ordinario, lo scappio a Lukaku. Fa, lo stai. Ma è perfetto, poi riflessa di Sethi. Ma no mia! O che possa essere Juve? Appoggio per Sethi. Spiriciglio. E di Marco in quella zona. Cappete la cannelli. La giocata più ambiziosa. Verticale. Rappio. Colpetto. Poi cerca il zero. Trova a sentire il nuovo. I soccoli di torno. Rappio. Rappio. Vi beve il pallone. Si propone anche �issero. Si. Palla per lui. Si coordina. Ma colpa al fischio. Si. Adesso c'è il bar. Stai tranquillo. Che c'è il bar. Tocco di ruolo. Dai. Che tempo. Questa. Si organizzane. La battuta calcina. Adesso c'è il bar. se sei parella che continua a scrivere il suo punto di vista che si sa che intanto li vediamo in brava in scena su quindi che può provare a salire vale parla del figlio che sarà dopo in quella zona quindi su lì no non ha il coraggio di fare queste partite non ha il coraggio di fare queste partite grazie ma è a morisci la 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 per qualche motivo non si sa come di marco Mamma mia, bro! Guarda in mezzo, tira, c'è la tira! Madonna di chi, madonna! Mi sa che fuori messa al fuoco. Oh, santo lì! C'è la tira, c'è la tira su oggi. Guarda Don Prys! Tira! Madonna di Dio, parole! Mamma mia, mamma mia! Bello! Un po' proprio... Un po' proprio! Sì, oh, bravo! Un po' proprio! Un po' piazza! Un po'... Un po' proprio! Nooo! Nooo! La presa! La presa! Nooo! 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 Vieni dal... Non vuoi gioco eh! Nooo! Palla verticale! Oho! Ho 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 ho! Oh ho ho ho! Mamma mia cerbi! Grazie a tutti.